Direttore generale Franco Fedele, primo trofeo da direttore generale. Sì, bello, molto bello, due squadre veramente all'altezza della situazione, una vittoria meritata perché nei 120 minuti abbiamo dimostrato qualche cosina in più e poi la lotteria dei conti. Una gioia immensa per noi e soprattutto per i tifosi che abbiamo regalato questa grande soddisfazione. È stato meraviglioso e da parte mia glielo dedico a loro questo trofeo perché per come ci stanno seguendo nonostante qualche disavventura meritano qualcosa in più e stasera gli diamo questa grande soddisfazione. Grazie.